Musica Su Il Sipario al Teatro Nuovo Giovanni Daudine, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre arriva un grande classico della maestra del giallo Agatha Christie, dieci piccoli indiani e non rimase nessuno. Ambientato nel 1939, la guerra è ormai alle porte, dieci sconosciuti si ritrovano per vari motivi ospiti in una villa su un'isola deserta di proprietà di Mr. Owen. Una serie di morti misteriose diffonde la paura tra di loro e l'inquietante enigma Chi sarà l'assassino? Mentre sullo sfondo risuona angosciante la poesia La Filastrocca che narra della morte, uno dopo l'altro, di dieci piccoli indiani. Una rappresentazione ricca di suspense che per la prima volta mette in scena il finale originale del libro e non quello della commedia teatrale. La stessa Agatha Christie, quando portò sul palcoscenico di Broadway lo spettacolo negli anni 40, decise di cambiare nel finale perché è considerato troppo drammatico. Ora, per la prima volta, diciamo così, e con la benedizione della Agatha Christie Limited, grazie a questa produzione di Gianluca Ramazzotti per la regia dello spagnolo Richard Reguand, si ritorna all'originale. E sabato 17 dicembre alle 17.30 la compagnia di dieci piccoli indiani incontrerà il pubblico di casa a teatro durante un incontro dal titolo Teatri in tempo di guerra. Primo atto a curare questo incontro è la critica d'arte Alma Maraghini-Berni che ha messo a punto due, anzi tre, la prima della serie l'abbiamo già vista in occasione di un altro spettacolo teatrale, quello con Antonello Fassari, l'hotel del Libero Scambio con Feido, dicevamo ha messo a punto tre giornate proprio per raccontare questi spettacoli teatrali. In questi prossimi due incontri si parlerà del teatro in tempo di guerra. Si parlerà del teatro principalmente, ma soprattutto del periodo storico, questo periodo storico che è abbastanza vicino a noi, ma è ancora abbastanza sconosciuto. Feido era alla fine dell'Ottocento, primi Novecento, viveva a quell'epoca meravigliosa della Belle Epoque dove tutto sembrava possibile, dopo tutto sembrava raggiungibile con la scoperta dell'industria, con questa ricchezza, con questa voglia di essere felici. Questa corsa alla ricchezza che portò poi alla disperazione più nera con la grande crisi dell'America, la crisi del 29. Crollò tutto, arrivò ancora prima la prima guerra mondiale e quindi si distrussero tutte quelle meravigliose speranze che poi fortunatamente nell'uomo tornano sempre. Tornano come risorgono, come l'Araba Fenice, una cosa meravigliosa questa insita nella razza umana, perché dal male di solito rinasce un bene. In questo periodo sono nati grandi scrittori, grandi artisti, grandi pittori, ma noi ci occuperemo in questo periodo di Agatha Christie. E che cosa dire di Agatha Christie? Era una femminista antelittera, era una donna eccezionale che aveva un carattere meraviglioso e che lei forse è l'emblema di tutto quello che noi parleremo, la reazione, la voglia di credere e la speranza di rinascere. Una donna che non ha avuto paura di niente, basti dire che ha affrontato la prima guerra mondiale come Croce Rossina, lavorando in ospedale, lì ha avuto modo di scoprire l'importanza dei veleni. Con questo fatto lei che cosa ha preso? Ha preso una conoscenza perfetta di come potevano reagire, come potevano servire tutte queste medicine, ma soprattutto i veleni. La sorella la prendeva in giro e gli diceva tu non sarai mai capace a scrivere una commedia o perlomeno un libro su detective o un libro giallo. E lei l'ha smentita tranquillamente, tant'è che è diventata la scrittrice inglese, diciamo anche mondiale, più tradotta al mondo. Pensate che lei è la terza, è seguita prima la Bibbia, poi Shakespeare e poi Agatha Christie. Insomma, credo che sia un bel primato per una donna. Durante questo incontro ci porterete alla scoperta, diciamo così, di Agatha Christie? Agatha Christie, che fra parentesi è tutta da scoprire, perché io stessa quando ho studiato di lei, ora con le nuove ricerche, ho trovato delle cose incredibili, dei suoi aneddoti, delle sue frasi meravigliose, per esempio quella che dice il miglior marito per una donna è un archeologo. Perché? Perché con più invecchi più ti apprezza. Insomma, aveva perfettamente ragione, non solo, ma lei aveva sposato un archeologo. Pensate, 15 anni più giovane di lei. Questo ve lo dice tutta su Agatha Christie. Insomma, che tipo di donna doveva essere? E poi tanti altri piccoli aneddoti, tanti particolari, le sue sofferenze, le sue gioie, i suoi riconoscimenti, ma soprattutto la sua bravura, perché lei in fondo è una donna che ha saputo fare del giallo un libro di letteratura. Quello che oggigiorno era fino a poco considerato una letteratura minore, lei invece ha scritto in maniera sintetica, semplice, immediata, bellissima. Insomma, ecco, questo va sottolineato e va ringraziato anche Casa Teatro perché riesce con il suo programma tutti gli anni a far divulgare una cultura in tutti i sensi, nella maniera più semplice. Io sono molto felice di presentare queste cose perché mi ritrovo con tante persone che poi dopo chiedono e sono incuriosite di andare avanti e questa in fondo è la funzione sia del teatro che della cultura. Non è solo un'occasione per vedere da vicino, tra virgolette, gli attori della compagnia, ma anche per approfondire i temi dello spettacolo, dell'arte, della storia e della cultura. E proprio di questo abbiamo parlato con il direttore della stagione di prosa, Giuseppe Bevilacqua, che ci racconta appunto come è nata l'idea e il perché di Casa Teatro. Sentiamo. Posso aggiungere che appunto è una casa aperta tra le altre case della città, è più grande ed è quindi un luogo dove ci si incontra come si possono riconoscere quindi come in una casa ci si conosce tutti oppure abbiamo degli ospiti che vengono a essere conosciuti per la prima volta. Nello stesso modo questa ospitalità che è il teatro, che è la missione del teatro essere ospitali, essere ospitali anche con gli attori che vengono qui e creare un rapporto tra di loro e tra il pubblico ravvicinato cogliendo l'occasione per accendere un pensiero, una riflessione, un sguardo diciamo un po' più ampio rispetto al teatro, perché ecco io la penso così, mi è stato insegnato così fin da piccolo, da quando ho cominciato ad abitare in teatro e continuo a pensarla così. Un teatro c'è un prima, un durante, che è il momento più importante che è lo spettacolo e poi c'è un dopo. Non c'è soltanto il momento dello spettacolo ma c'è un prepararsi, un prima che per esempio può consistere soltanto per il pubblico nell'aspettare questo momento, nel mettersi d'accordo con le persone per venire. Allora andiamo a vedere proprio qui lo spettacolo. Poi c'è il momento dello spettacolo e poi c'è un dopo. Un dopo può essere anche andare a una cena con gli amici, parlare, discuterne due o tre giorni dopo, rivedere questo frammento di sogno che è il teatro e anche la possibilità di condividerlo a casa teatro e quindi vedere l'attore dal vivo e poter con lui avere un rapporto un po' più prossimale, un po' più vicinato. Dalla prosa alla musica perché è anche il momento del gospel. Infatti in arrivo al Teatro Nuovo Giovanni Daudi nell'Harlem Gospel Choir che si esibirà lunedì 19 dicembre. Un concerto particolare di cui abbiamo parlato con il sovrintendente Marco Feruglio. Sentiamo. Direttore, come dicevamo il coro gospel è un appuntamento imperdibile dei giorni che precedono il Natale. Non è una novità, come non è una novità il concerto di Capodanno, però richiama sempre molta attenzione. Piace al pubblico? Sì, piace sempre di più. Ci sono anche nella nostra regione molti seguaci di questo genere che interpretano e eseguono in prima persona. Noi abbiamo scelto un autorevole complesso di questo repertorio, arrivano direttamente da New York. Non è la prima volta che sono i nostri ospiti. In particolare, oltre alla tradizione di questa musica, dedicheranno una piccola parte del concerto anche ad Adele, quindi a una pop star del nostro tempo, per un appuntamento che sicuramente si preannuncia molto seguito e molto più semplice. E per le festività natalizie il Teatro Nuovo mette a disposizione delle soluzioni vantaggiosi per acquistare e regalare dei biglietti o degli abbonamenti per gli spettacoli di prosa, musica e danza. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.teatroudine.it oppure andando alla biglietteria del Teatro in via 34. E prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con un ultimo spettacolo in programma mercoledì. 40 dT Galateo per un terremoto. Due rappresentazioni in programma alle 19.45 e alle 21.30 con il pubblico sul palco per ricordare quanto è accaduto in Friuli nel 76 e dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal sisma in Italia centrale. Qui verrà devoluto il ricavato della serata. Vi lascio al trailer su Il Sipario, ritorna la prossima settimana. Sapere se si vive in una zona classificata come sismica o no. Accertarsi delle condizioni della propria abitazione. È stata progettata e costruita in maniera antisismica? Avere preventivamente un'idea ben chiara di quali luoghi si possano considerare pericolosi all'interno e all'esterno di un edificio. Organizzare punti di raccolta e coordinamento in modo da favorire una distribuzione equa e razionale dei generi di soccorso. Un ragazzo nel 76 stava riversando questo disco di Pink Floyd da vinile a cassetta e ha registrato anche il suono del terremoto. Io sono Sara Rainis, sono friulana, più precisamente carnica e vivo a Parigi. Io sono Natalina Ormofella, sono di Milano e vivo a Udine. Ci siamo incontrate alla Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e per questo progetto abbiamo ricominciato a lavorare insieme. 40DT sta per dopo terremoto, che lei è friulana e io abito lì. Ci siamo chiesti che cosa potesse voler dire per noi questo evento che comunque è stato un punto zero per la cultura friulana e per la popolazione. Noi siamo partiti dal nostro punto di vista, che era quello di due ragazze che sono nate dopo questo punto zero. Da lì siamo partite, quindi da questa generazione nata dopo e abbiamo iniziato a documentarci, a informarci fino al momento in cui siamo arrivati al punto centrale che è stata l'intervista con Dolores, che è diventato il centro del nostro lavoro. La mia convinzione è che lì la vai distinta. Racconta la nostra storia, proprio come noi ci siamo approcciati al lavoro, c'è la storia del terremoto del 76, di Dolores, c'è una videoguida che potrebbe rappresentare tutti noi, la generazione 40DT, quindi come noi, di quelli che non l'hanno vissuto, gli impreparatissimi, ci sono tanti elementi che in realtà ci rappresentano molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.